Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È tutto bello, è tutto simbatico, è tutta la tua. Io sono qui per dirle, a prescindere... Non sono i problemi. Non sono i problemi, ci sono. C'è poca gente. Ma ci sono. No, che c'è poca gente è vero. Ci sono quelli che servono. Lì quando siamo partiti. Io voglio vedere in mezzo ai problemi, sbocchina, stravicino, di tutta la gente che c'è, non qui, ma in generale. Prefetto, quante volte ci sentiamo o con il colonnello o con... Sono 24 anni che c'è... Ad esempio... E' venuto il rischio all'interno. A PS. E' rinaugurato il ristorante. Questo ristorante era stato completamente rasa a sole, distrutto per l'applicazione. Ed è un nostro associato. E' ristorante anche questo lo ha riaperto, più bello di prima, molto di prima, senza perdere una linea, perché lo stava risarciuto pure il nostro. Però... Però... E' non attivista. E' giusto. E' giusto. E' tutto giusto. Il problema è che queste cose devono essere fatte quando ci sono i problemi. Cioè nel problema risolto gli strobri. Il problema di questo... Siamo risolto uno su? Non ho uno, nessuno lì, no.